Ciao a tutti, mi chiamo Graziano Somaschini, responsabile della divisione Audio Pro della Exibo. Distribuiamo i marchi che molti conoscono, che sono Sennheiser, K-Ray, Eclair, Turbosound e Neumann. Siamo qui al live 2015, siamo a secondo anno di presenza, devo dire anche contenti di essere qui. Presentiamo in questa occasione dei nuovissimi prodotti che vedete di K-Ray, la nuova serie Concert che parte da un sistema medio KH2, un sistema medio grande KH3 e sul palco, lo vediamo in esterna collegato appeso il sistema KH5 per grandi ambienti e grandi superfici. K-Ray ha sviluppato nel 2014 e presentato nel 2015 questi prodotti e stiamo facendo ascoltare in anteprima al pubblico del live la nuova linea. Poi abbiamo prodotti Sennheiser che vedete alle mie spalle, sono i nuovi digitali D1, che sono microfoni digitali a 2.4 che sono di applicazione musicale, quindi stage, piccole band. Per arrivare poi a microfoni che abbiamo sul palco, che comunque super conosciuti, sono i microfoni della serie 2000 che vengono utilizzati per i più importanti tour. Abbiamo poi una sala demo dove abbiamo tutti i prodotti K-Ray, Turbo Sound attivi. Abbiamo qui un diffusore Sennheiser, il primo diffusore che Sennheiser realizza completamente senza filo, via radio, con un trasmettitore che può trasmettere a più diffusori e quindi creare una catena audio senza filo. In più funzionamento a batteria, con due batterie ricaricabili al proprio interno, autonomia infinita, in quanto ogni batteria può essere sostituita anche durante l'utilizzo. Vi saluto, vi invito già all'edizione 2016 e per chi vedrà dopo spero che possa essere stata un'esperienza positiva. Grazie a tutti e arrivederci.